buongiorno ragazzi buongiorno amici che guardano questa stupenda radio più bella del momento che è Radio Forcella e buon San Valentino a tutti quindi oggi faccio questa live per parlare di nuovo del nostro caro e il nostro carissimo il pagliaccio Carvocchio che continua di nuovo a incitare il popolo a pretendere l'applicazione della legge e la punizione del re cosa che come lo sa il popolo non lo farà mai dopo che da quattro anni che hanno subito tutto tutto ciò che abbiamo subito pure noi i martellamenti da parte del sistema il popolo non si metterà mai contro i loro aguzzini e lo hanno dimostrato in questi quattro anni e continuano a dimostrare ancora nonostante che ancora oggi la maggioranza della massa appoggiano ancora a Conte perciò anzi ancora i loro aguzzini speranza eccetera eccetera e niente si parlava anche della rivolta degli agricoltori in Italia che lui sul suo profilo facebook che poi il caro Carvocchio mi ha bloccato perché il mio ultimo commento che ho fatto contro lui non l'ha digerito assolutamente perciò e ha pensato di bloccarmi però io ho altri profili segreti da 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 tenerlo d'occhio perciò uno e due facciamo altrimenti a finire di fare un solo occhio a finire chi sei massone eccetera eccetera e niente il caro Carvocchio sul suo profilo facebook anche sul suo canale ha scritto che le passarelle dei trattori per i casi cambi adiacenti le strade spesso non visibili a nessuno una volta montati i gazebo iniziano le riprese da pubblicare sui social con vari comizi e messaggi rivolti ai presenti e chi riesce a reperire qualche video sui social il massimo azzardo che lui ha visto fino a ora è stato fatto da tre allevatori che hanno portato una mucca fuori dal festival di San Romolo anzi di San Pedolo di San Pedro scusami per ottenere visibilità mediatica tutto organizzato con Dicos che non disturba assolutamente non avendo recato alcun documento o documento chissà quello Carvocchio è pure analfabeta perciò c'è scritto un documento nel suo canale o su Facebook nessuno anzi delle statali ioniche tireniche ho visto fatture di polizia e guardia di finanze che piantonavano trattori lasciati parcheggiati dentro l'aione in una rotonda mentre i loro proprietari discutevano nei campi in imitrofi tra una grigliata e un comizio neanche gli argomenti trattati disturbano l'elite che li lascia indisturbati nel fare passerelle grigliate e comizi essendoci tra gli organizzatori e promotori di personaggi legati alla politica sindacati eccetera ancora non si è capito che per cambiare l'Italia non bisogna cambiare partito di governo e questo lo sappiamo benissimo caro Carvocchio ma dire alla maggioranza del popolo che devo fare come fa il Greg quindi dire alla maggioranza della massa e che ancora oggi continuano ancora a poggiare questi questi mafiosi massoni che che per salvare questo paese bisogna fare come hai detto tu ma la gente come voi tu non lo vogliono fare perciò te l'ho già detto te lo ripeto e poi ti ho mandato anche un bel vocale su tuo whatsapp e aspetto che tu mi denunci quindi ti aspetto a braccia aperte caro Carvocchio e diceva ancora non si è capito che per cambiare l'Italia non bisogna cambiare partito di governo tanto sono tutti figli di una zazzara 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 di una mamma ma pretendere pulizia dentro la magistratura qualcosa che non succederà mai Carbone perché il popolo non vogliono mandare in galera i loro aguzzini forse non l'hai capito perciò o forse lo sai già e continui a fare la sceneggiata pur di beccarti soldi con le denunce che tu fai e tua moglie Virginia Cerullo perciò caro Carvocchio che dentro la magistratura e pretendere ai magistrati l'applicazione della legge Fusebo stessa e la punizione dei rei lo feci vedere anche al caro Achille alias 3 Napoli official video e il caro Achille disse che tutti ci sono un sacco di cazzate ma invece il caro Telerux Lorenzo Barletta gli disse che tu sei un complottista un negazionista e invece di fare disinformazione nel tuo canale sul profilo facebook dovessi andare a prendere cittadinanza non solo a te ma me l'ha detto pure a me la stessa cosa il caro Lorenzo Barletta entrambi i quindicenni uno di San Giovanni a Teruccio e l'altro di Ponte Cagnano colui che va a girare i video io l'ho visto pure sabato il caro Telerux nel treno appena mi ha visto e se ne è scappato via subito per favore che ne dicessi qualcosa io poi non l'ho cagato proprio e l'ho lasciato per quello che è un piccolo bimbo minchia perciò lui e il suo amato Achille perciò è due sceme quindi e comunque la gente non pretenderanno mai la punizione con i loro aguzzini capisci? e che commettono reati con dei singoli collettività erario personalità dello Stato senza processi e senza alcuna punizione continueranno a deninquere indisturbati sia nel loro che nei loro picciotti non ci sarà nessuno o mai una rivolta popolare in Italia per quanto non esista un popolo italiano ma solo singoli e vari gruppi che pensano solo a se stessi e questo è vero purtroppo le proprie categorie ottenute da un contentito che si ritornano in silenzio pensare ai propri interessi personali fottendosene delle problematiche collettive che oggi in primi questi sono i controlli della gestione della politica magistratura e forze dell'ordine da parte di Logie Koschka Ordine 7 che attraversano i medi del regime influencer e fin di influencer e l'antisistema ci fanno credere di essere in democrazia anche tu sei uno di loro caro carbone perciò solo per essermi permesso lui sessi permesso di organizzare manifestazioni con dei crimini commessi da magistrati e polizia politica ovvero la Dicos e infereri della polizia hanno tentato di ammazzarlo sequestrandolo insieme alla sua compagna incinta che è accaduto nel 2020 durante la finta pandemichia al quinto sesto mese disturbati e minacciati dalla Dicos in fedele forze dell'ordine anche i manifestanti dinanzi a tutte le procure di tribunale in Italia dove il silenzio distribuivano volantini senza gazebo grigliati e trattori senza alcune rivelanze magnetiche buona rivoluzione del sognatore che da dietro uno smartphone seduto alle poltrone sperate che qualcuno possa cambiare l'Italia e le vostre singole sorti cosa che l'Italia come l'ho detto non si cambierà mai perché la maggioranza della massa caro carbocchio e stanno dalla parte loro perciò perciò è inutile è inutile c'è ancora altre persone che ancora oggi appoggiano ancora Conte Speranza e e il PD e tante quelle cose purtroppo Carbone io già te l'ho detto fatti una nuova vita fatti una vita tua e Virginia e non rompere le scatole qua a noi perciò tanto la maggioranza della massa ah cari napoletani che Carbone è anche lui contro i tenditi di cittadinanza perciò perciò andate nel suo canale di Francesco Carbone GDAPS e dite ne le quattro perciò ditevi che gli mando io Radio Forcella e perciò vedete tutto quello che è scritto vabbè quello è un piccolo schicciotto l'ho cercato di allegarli però non è che si vede bene però se volete andare nel suo profilo Carbocchio Francesco Carbone GDAPS e vedete il posto oppure sul suo canale Telegram Associazione Governo del Popolo appestati come dice il caro Parenzo e quindi niente la zanzara ancora già l'hanno attaccata una volta e Carbocchio li ha mandati a quel paese perciò vedete un po' se i cari Cruciani e Parenzo li attaccano di nuovo a questi due anche al nostro caro Carbocchio perciò sono sicuro che Carbocchio li manderà a fanculo per le due stavolta e prima di chiudere caro Carbocchio ti dico se è una cosa che come tutti gli altri anche tu fai parte del sistema e se tu non hai voluto che tre anni fa il magistrato potesse cominciare il famoso domino contro questi criminali da te menzionati ma solo perché hai interesse per guadagnarti soldi allora o dici la verità ai tuoi amici Carbonano se no merito stai zitti che fai una buona sempre ok benissimo non aggiungo altro vi auguro a tutti una buona giornata e a caro Francesco Carbone a tomar por culo lui e i suoi sostenitori ciao 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 ciao